Senti, ieri ho battuto la testa sul lavello, ho avuto un'illuminazione pazzesca per la locandina del film, una ispirazione molto bella, praticamente, senti qua, la mia faccia splittata in due, da un lato l'italiano che usa il 2% del cervello, dall'altro quello che usa il 20%, il tutto iscritto all'interno di una pillola, che è comunque divisa a metà dalla linea della pillola, capito, come a rappresentare il dualismo magico, mistico, avanguardistico, no? E poi uno sfondo, che ne so, uno slavato, un tricolore slavato, un po' sporco, acido, colori acidi, che dici? Che te ne pare? No, bello. Bella, eh? La facciamo e la possiamo fare? Però io l'ho già mandata in stampa, l'idea, l'ho fatta io. Idea? Eh. Ma cosa, sulla base di cosa hai mandato in stampa? Eh, conoscendo i tuoi gusti, per non perdere tempo, l'ho mandata. E che cosa c'è nella locandina, scusa? Che cosa hai messo? C'è un orso. Ma come un orso? Un orso? Ma che orso? Un orso bruno. Ma per quale motivo c'è un orso? Che cosa rappresenta? Perché tu mi dici sempre che è il tuo animale preferito, che ti vedi documentari. Ho capito, ma che vuol dire, scusa? Allora, animale preferito, ma che c'entra col film? Non so, pensavo di farti una cosa gradita. Ah, ma che vuol dire? Il film non comunica nulla. Cos'è? C'è uno sfondo? Che sfondo c'hai messo? Il tricolore? No, c'è la bandiera americana. Ma se si chiama italiano medio, che è la bandiera americana? Ma che porca, porca puttana! Grazie a tutti.